per fare questo lavoro io ho deciso di recuperare tutte queste maglie che io ho fatto tra le due trecce quindi due dritti qua sotto le recupero quindi farò una taschina dell'altezza necessaria e poi cuscirò ai lati collago il filo allora per farlo dobbiamo lasciare un codino lungo circa quattro volte la larghezza della tasca perché ci servirà a caricare tutte le maglie sul dietro del lavoro quindi calcolate circa quattro volte anche quattro volte e mezzo meglio un pochino abbondante la larghezza della tasca e poi facciamo un cappio facciamo così allora il cappio lo mettiamo sul ferro questo codino lo passiamo sotto il lavoro dentro la prima maglia quindi entriamo vedete questa è la prima maglia dove andremo a recuperare noi recupereremo tutte queste maglie qui del bordo quindi io entro qui nella prima maglia prendo il codino e lo passo sotto ecco qua perché poi ci servirà il codino per recuperare le maglie allora per fare questo lavoro ci vogliono dei ferri circolari o a doppia punta altrimenti vabbè semplicemente vi ripasserete poi tutte le maglie perché quando avremo finito di caricare tutte le maglie dovremo iniziare a lavorare da questo lato dove abbiamo il gomitolo quindi questo codino lungo che è sotto lo teniamo in modo da utilizzarlo poi per caricare tutte le maglie quindi questa qui vedete è la prima che io ho caricato quella sopra qui sopra il rovescio vedete questo è il rovescio io sono entrata nella prima v del rovescio esco da qua adesso vado a questa qui accanto tiro su il codino ecco ecco qua all'inizio cascherà il ferro quindi tenetelo in una posizione che non vi cada vedete e carico tutte le maglie qui partendo proprio dal primo giro qui sopra il rovescio è semplice perché è la prima v sopra il rovescio questa qui accanto fate attenzione vedete devono essere queste due gambine confinanti e prendiamo e mettiamo sopra il ferro questo accanto vedete questa accanto uguale attenzione a non sbagliare a non prendere quella sopra o quella sotto in modo da prenderle tutte nello stesso punto qui siamo sopra i rovesci vedete qui è più facile questa sopra proprio il rovescio quindi carichiamo in questo modo tutte le maglie vedete qui sempre facendo attenzione a non sbagliare quindi saranno due dritti e due rovesci quindi vedete sono due maglie sopra il dritto due sopra rovescio così via le recuperiamo tutte dove abbiamo questi dritti fra le due trecce ecco qua vedete io ho recuperato tutte le maglie qui vedete sono due dritti e due rovesci le tutte le maglie che ho tra le due trecce escluso i rovesci quindi sopra i dritti ok quindi adesso devo far scorrere il ferro in modo da avere la punta di qua perché io il filo ce l'ho qua per lavorare ok quindi adesso lavoro in questo modo la prima maglia io faccio un aumento perché mi servirà poi per la cuscitura quindi facciamo un dritto senza scaricare e rientro dentro da dietro quindi faccio un aumento da due maglie da una maglia ne faccio due vedete una e due ecco qua questo è il nostro primo aumento poi le altre le lavoro tutte a dritta anche qui ricordatevi il verso vedete perché a secondo di come l'avete caricato e saranno girate al contrario quindi o la gambina questa qui che è più verso di noi deve essere davanti al ferro quindi o la girate così e la lavorate normalmente a dritto oppure semplicemente vedete anche qui è messa dietro entrate da dietro e la lavorate è la stessa cosa è come girarla viene la stesso punto identico quindi lavoriamo tutte queste maglie a dritto e anche alla fine facciamo un aumento come abbiamo fatto all'inizio dopodiché giriamo il lavoro e continuiamo a lavorare in giri di andata e ritorno tutte le maglie che saranno pari alle maglie caricate più una in più per lato quindi più due ecco qua fatta la tasca vedete abbiamo quindi attaccata direttamente la parte sotto in modo invisibile al lavoro vedete che bellina che è venuta così non si vedrà la cuscitura e ho finito con dei giri a maglia legaccio per riprendere il motivo appunto che abbiamo sia qui che al collo allora per cuscire facciamo così entriamo nella prima maglina quella dove avevamo fatto l'aumento in centro due volte per fermare il filo poi da sopra e questa è la colonnina dove ci sono i rovesci quindi entriamo nella prima maglia di sotto qua tutte e due le gambine della prima maglia in questo modo entrando dall'esterno verso l'interno poi entriamo come vedete questa era la prima maglina che era questa qui entriamo in quella dopo qui dovremmo riconoscere tutte le maglie per non sbagliare entriamo in quella dopo anche qua prima siamo entrati qua questa è quella dopo vedete questa stringiamo un po quindi entriamo prima siamo entrati vedete in questa qui questo è il filo che è entrato in questa quindi entriamo in questa dopo quindi da dentro a fuori quando prendiamo la parte di sopra e la parte di sotto vedete questa è la maglina dove siamo questo è il filo che entra in questa maglina qui quindi entriamo in questa dopo da fuori a dentro di qua uguale dobbiamo sempre andare dopo le prime punti sarà più facile riconoscere vedete qui e dove siamo entrati prima adesso sì adesso siamo entrati qua quindi quella dopo sarà qua qui uguale mi lasciate l'ultima maglia un pochino più lenta così è più facile da riconoscere vedete qui e dove siamo appena entrati entriamo in questa successiva è uguale qua un pochino lento come lavoro perché bisogna essere molto precisi per evitare vedete qui e dove siamo entrati prima questa è la maglia di prima quindi entriamo qua in questa dopo e qui uguale l'ultima che siamo entrati teniamola sempre in mano così adesso io ce l'ho qui sul tavolo ci lavoro un pochino male se la tenete sulle ginocchia forse ci vedete un po meglio poi questa è un po scura anche come filato quindi vedete adesso siamo entrati qui vedete questo è il filo che esce da questa maglia quindi prendo questa successiva sempre facendo attenzione ad entrare prima del rovescio vedete questo è il giro al rovescio e così via quindi facendo sempre vedete molta attenzione questa è l'ultima dove siamo entrate entriamo in questa dopo qui uguale vedete questa il filo esce da queste due magline qua prendiamo queste due dopo tiratelo sempre un pochino in modo da chiuderlo ecco qua vedete questo è quello che dobbiamo poi ottenere ora ancora non si vede bene però ecco deve venire cuscita in questo modo ecco qua cuscita guardate non si vede quasi per niente si vede solo il bordino sopra perché qui approfitta appunto dei giri che già avevamo al rovescio quindi viene in fuori viene in fuori qui vedete qui c'era il giro al rovescio sia di qua che di là quindi vedete viene un lavoro proprio bello pulito e questa è la misura giusta per metterci un cellulare guardate che carina che è questa tasca che è praticamente invisibile